Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi questa particolarissima lampada. Devo dire che appena mi è arrivata sono rimasta un po' perplessa perché è fatta in materiale di plastica resistente, due pezzi semplicissimi, come vedete una prima piastra sulla parte superiore su cui sono incise tre rose e una piccola piastra, una base di plastica nera sulla parte inferiore. Quindi all'inizio sono stata un po' titubante, però vi farò vedere l'effetto ottico che produce e che veramente mi ha fatto restare a bocca aperta. Semplicemente funziona cliccando il tasto che abbiamo sulla parte frontale, possiamo utilizzarla sia con tre batterie mini stilo che andranno messe nella base e non sono comprese nella confezione, oppure tramite il cavetto USB. Vi faccio vedere, allora cliccando una prima volta sul tasto vedremo accendersi le rose, come vedete è veramente un effetto ottico particolarissimo. Quindi in questo caso abbiamo delle rose blu, cliccando di nuovo le rose si dipingeranno di rosso, poi di verde, di viola, di azzurro, di giallo e infine diciamo bianche. Se clicchiamo un'ultima volta avremo il gioco di luci, quindi le luci andranno a sfumare da un colore all'altro, creando questo gioco molto particolare. Per spegnere la lampada basterà semplicemente cliccare per qualche secondo sul pulsante e come vedete si spegne. Trovo che sia veramente una cosa molto originale, con un bel effetto ottico e anche un ottimo regalo da fare magari a un'amica, tanto per dichiararle che insomma è la nostra amica, le vogliamo bene. Il costo lo trovo interessante, quindi ve la consiglio. Ciao!